Ciao a tutti i ghiaccioli qui Frost e bentornati di nuovo qui per un nuovo episodio di Resident Evil Allora ragazzi, ci eravamo lasciati qui al lago e dovevamo guadarlo per scoprire che cosa c'è dall'altra parte E voilà Vi ricordavate quel bestione che era uscito dall'acqua? Ecco, adesso dovremmo combatterlo, questa enorme salamandrone Madonna Ragazzi, io ci scommo di quello che volete che faccio lo stesso errore tutte le volte che lo vedo Proprio sbaglio e piglio il tronco in fascia, state a vedere State a vedere perché c'è roba da ridere Salamandrone in mare Pazzate bene Qua a destra e qua ancora a destra Perfetto, questa volta no, questa volta no Questa volta no Allora, spiegami una cosa, perché hai fatto un 360 con la barca? Quindi non siamo su parten più Perché tutte le volte mi devi far salamandrone? Sì, spiegamelo, spiegamelo Ah, signore Dio, penso che sia una delle boss fight più semplici di questo gioco ma più slurvanti sotto al profilo dove Cristo si è andato Qua Eh, sì, buongiorno Vai davanti Ok, spiegami questo, perfetto Bene FIGA STO ARCIONE LION FIGA L'ARCIONE Via, 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 si gira, si gira Non si gira FIGA, si gira, si gira Perfetto FIGA L'ARCIONE PIANTE L'ARCIONE Adesso esce Eccolo Oh merda Adesso dovremo identificarlo Prima Ecco Giusto perché a dentro prima che ci colpisca Ci unicolerà malissimo Vero Frost? Vero Frost? No, però, non c'è in più l'altro Perfetto Ah, mio Dio Adesso esce, adesso esce Aspetta che esce Sei un bastard Tone il culo Tone il culo, no Oh, adesso esce, adesso esce Adesso Grazie Tuo culo di terzo No, 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 Phantom, Phantom Stavo scherzando Stavo scherzando, Phantomina Madonne, madonne, madonne Chiavi stelle, perfetto Dai ragazzi, dai ragazzi Dobbiamo piastere, no, no Piatte Bello, bellissimo Il tiro migliore delle parolimpiadi Ok, sono morto, sono morto Sono morto Dio, 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 Dio Madonna Ma che te la pellegrino Sono bello Ok Ce la posso fare Bella Bravo Dio, Dio Una fara No, 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 no Che palle Che palle Che palle Sì No, eccoci 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 Dio 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 Tiralo Perfetto Ok Dai Nuova il mio seguimento Un po' di alto Un po' di alto Un po' di alto Ok Sì 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 Ho capito Capisco tutto Ma un minimo di Trollo su staccata pezzi a moto Sì Forfetto Pulato Le Non c'è trippa per gatti Muore Tutti stifoso Intanto ci la cinesi Mi perseguita Perfetto Ce l'abbiamo fatta Quanto odio sto co... No No Cos'è quadrato Maddio Santissimo Vecchio Dio Di Paglia Toglio Saffa Un Sacco Di Merda Enorme E La Botta Scendi Stacca Carcasse Motore e andiamo. Eccoci qua. Ecco, perfetto. E grazie al cacchio, salvare, figa, sì. Non posso più, è tipo... Ok. Perfetto, fine capitolo. Abbiamo avuto un po' una... Quante morti c'erano? Zero. Non ho letto. Ok. Si era sentito male lì, adesso vediamo cosa succede. No. Oh... 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 Ah! 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 Ah... Ok. Grazie a tutti. Ah, vabbè, ci stai bene te, Leon, mi raccomando, certo. Lecce era anonima. C'è un oggetto importante nascosto alle cascate. Se lo trovi potresti riuscire a liberare Ashley. Ma stai in guardia e il cammino per arrivare alla chiesa non è la passeggiata. Hanno schierato un charter gigante, quindi fai attenzione. Riguardo a quello che sta succedendo al tuo corpo, mi piacerebbe aiutarti, ma la situazione volta le mie competenze. Chi è che ci ha lasciato questo messaggio? La donna in rosso? Vediamo questa gra... Qualcosa? Salviamo? Quanti cazzo di salvataggi sto realizzando, no? Perché... Ok che la place c'ha posto, però... Ostia, è notte. Ostia, sta piovento. Ok. Penso che adesso sta per iniziare uno di... Passaggi più... Uff... Casinato. Ok ragazzi... Oh, vedete qui... Adesso c'è chi paggiamo di una bella grana tronza accecante... Ok, cerchiamo adesso di ammazzarlo fino ad esserci... E gli esce la plaga... Perfetto. Può fermare la forresciuta della plaga se si... Si uccide. E non gli si fa edge. Tiga. Perfetto. Vabbè ragazzi... La prima morte del gioco in quanto... Eh... Beh... Non siamo stati... Dovutamente appieni. Amoltre... Amoltre... Può essere... Amoltre... E andiamo... Ok... Andiamo giù... E ora... Siamo alla diga se non sbaglio... Andiamo qua... Do... Merda... Si giusto per finire appena sotto... Fuora di subito... Adesso è morto... Si è morto... Giusto perché mi ero curato... Porca riva... Un po' verde... Oh yes... Dai... Andiamo di... Prendere le cose... Quanto meno... Dico... Facili... Però... Andate... Ma... Il povero... Grifo... Vieni... Pronto... Questa scatola... Là... Perfetto... Ok... Torriamo qua... Entriamo... Questa scatola... Ottimo... In pianta... Controlliamo un attimo... Dove siamo messi qua... Questa è un quant'altro... Ob... Si... Bene... dobbiamo non sbrigare ad armi quella radii 9 quindi dopo diamo questa pompa giriamo la leva ok si attiva la chiusa e l'acqua non scende più il passaggio si aprirà esatto bene ora ed equipaggiamoci che granata abbiamo ecco se noi la giochiamo bene possiamo anche esatto ok dai prova a saltare uno dai vola di sotto l'acqua l'acqua e invece si no che palle dai ragazzi oh ma allora oh ma mi pigliate per le chiappe mi pigliate per le chiappe evidente va bene allora fa una cosa prima non compri dai salta lo so devo fare perfetto e ci siamo liberati perfetto abbiamo sprecato gli incendiai per niente però va bene ok eccolo ricordate questo stemma stemma circolare dove ci veniva chiesto esatto alla chiesa va bene io ti accontento ma prima volevo vedere se c'era qualcosa non c'è una palla di nulla ok apriamo e guarda un po' dove siamo le palle tutte le volte in teoria col coltello eh infatti si conquista in teoria danno anche poi il coltello no a parte che faccio tipo il trofeo uccidi batman ma guarda guarda che roba guardali non mi danno peccato torniamo sulla nostra barcatella e andiamo in dove non so andiamo dal mercante ma è ovvio il mercante fiera ecco dove siamo qua sicuro e allora in teoria si potrebbe fare una cosa questo in teoria si potrebbe si potrebbe comprare lanciarazzi e diciamo uccidere il boss al primo colpo però ho dell'ottima merce no sei ancora stronzo no 30.000 non li spendo neanche amoli getta media potrebbe essere utile andiamo alla maglietta perfetto e adesso abbiamo molto più spazio un po' di ore wow perché volevo farla tutto bello donna cara in attimo che sto grattinando Cristian ok la pompa e dai a posto così perfetto ora andiamo su e prepariamoci alla boss fight numero 2 è lui o non è lui è lui è lui è lui è è il gigante lui lui che mi devo anche bello 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 calcio calcio d'altro qua può esplode lì e adesso tra due e ci ci divertiamo ciao erano 8 anni qui dentro me stavo scherzando porca era non si può neanche scherzare la vostra direi che non mi ricordo io ho albero ci a come a non o o che o o o o o Hey, is that dog? Posso o posso che era giusto? Ah, era giusto per, ecco, ormai Mi serve una fava, due refini Ostia Ostia Grazie Dio, abbiamo delle erbette Ok Vediamo se funziona No, niente E' giusto, allora Dio Ok Ma non è ancora finita Eh no C'errebbe frost Il cane tiglia una mano Ma... La problematica domane lui Non c'è gioco ragazzi C'è che porta Però non ti posso Aia E' figato Non è che Ricordatelo, io Bene Bene Voleva giocare a Buing con me Eccoci qua Guarda Guarda Un cane Ok Ok Aia Uh Che cool Ma è Ah Poco fatto no con la testa Tipo No no, non ci passi Ok Bene Sbassava di io Che bello Proprio l'ho cagato fuori Che zio Il cane fa qualcosa Io qua Però ci lascia le pene Le pene ci va Grazie No, dai La cesta qui Ecco Ok, poi te lascio stare il cagnolino Non è un massacra Un bel pipetto, no? Dai che forse ci siamo ragazzi Forse ci siamo Cambiato tanto, dai ragazzi Sì, perfetto Ok Schiattaci Male Perfetto Ok ragazzi Ci siamo Ce l'abbiamo fatta Tra incudine il martello Adesso col cazzo Che va davanti E vado A salvare di nuovo Ok Andiamo dal nostro mercante Sarà ben felice Di vederci Stiamo guadagnando Pesetas Su pesetas Per lui Per altronde A lui Sperga solo quello L'ho salvato Vediamo se è Noi No Ancora nessuna rednova Allora Prendiamoci la nostra pistola Effettivamente potrei vendere anche i proiettili per mitrailletta perché tanto noi non li usiamo Non ce l'abbiamo Ok dobbiamo tornare verso la chiesa Ok dobbiamo tornare Bella 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 Usciamo E torniamo verso la chiesa Ma stavolta Ovviamente No Per quanto Non sono delle nuove pistoline Possiamo già vedere da qua Possiamo già vedere da qua Poi Eccolo lì cos'è Pure Quelli Quei canchi e schifosi sono pelli E non poco E non poco Cosa Le lampadoi si dei brutto Ecco Eccolo Cosa Eccolo Eccolo Ovviamente Eccolo 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 Gioc' Eccolo Buon Oh, ok. Perfetto. Brutti, ragazzi. Brutti, più che altro, brutta situazione. Ho poca vita e dobbiamo entrare in cesa. C'è un bussolotto rotondo. Vediamolo. Ed entriamo. Ok. Siamo entrati in acqua. Oh, perché? Sì, è una normalissima chiesa. Dai, andiamo a vedere che cosa c'è qua sopra. Eh, c'è, ci deve essere un modo per aprire. Noi il modo lo troviamo. Oh, yes. Perfetto. Lord Sadler o mai mi ha rotto le bollas come... E ho una granata incendiaria. Ok. Ci sta. Tutto chiuso. Allora, dobbiamo diventare... Che colore vuoi attivare? Questo. Del verde. E il blu? Così, ragazzi. Oh, lì. Un cazzo. Perfetto. E il blu, ragazzi. Questo. All in. Perfetto. Sono aperte le porte e possiamo andare avanti. Ok. Andiamo. Ashley. Don't come! Hey! Take it easy! No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Soltiamo giù. Ho sbagliato. Volevo prenderla. È bello adesso, ragazzi. Per esempio, ci azzardiamo. A migrare. Lei dal basso. Che fa? Stivali più brutti che gli abbia mai visto. I'll take the girl. Who are you? If you must know. My name is Osman Sadler. The master of this fine... Religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power, and then send her back. No. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. We just planted her a little gift. Believe it or not. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion, if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Okay. Perfetto, ragazzi. Abbiamo concluso il capitolo. Siamo morti una volta, sfortunatamente. Amen, ragazzi. Adesso andiamo a salvare. Vi ringrazio per aver seguito il video, ragazzi. Vi chiedo un mi piace se vi è piaciuto il video o magari una condivisione se volete. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi. Ciao e alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.